sono le 23 e 58 quanto ci è mancato correre ovviamente così tanto da fare questa cosa l'ho esatto offerto da chicco dove c'è un bambino vediamo oggi che giorni è già oggi è il 3 domani il 4 anzi tra 10 secondi 10 secondi 4 3 2 1 quindi si può andare a correre? si va andiamo andiamo il pitch 0-0 4 maggio 2020 ce la ricorderemo questa data grazie Beppe Conte che ci fa andare a correre questo è per te viale conquistato tutto per noi vado quanto bello copre fase 2 non sono mai solo un grande matematico ma la fase 2 è meglio la fase 1 non sono mai stato un matematico ma credo che 4 sia più di 3 cazzo siamo in diretta se vedete ci becchiamo in via Roma non serve neanche l'autocertificazione con i bessone vale tutto mattimene veniamo a maradello arrivo bene venite vi aspetto al balcone andiamo veniamo giù giù seriamente io ti ho invitato su worldzone oggi ti ho capito non devi spammare il tuo vuoto insieme sulla mia live insieme oh mi manda le pattuglie noi li mandiamo da Ines per i ristoranti illegali da Ines là giù ciao Gucci ci siamo i biscotti allora è ufficiale una polvere abbiamo i biscotti grazie buonanotte ciao no no non si capa il numero uno buonanotte ciao votate sotto viale o corso inizio intanto noi stiamo andando sul viale quindi potete votare quello che volete grazie ci vede più lungo fra ci vede più lungo di Rocco Sipredi probabilmente non vorrei dire questa è la scuola di Gugu quindi l'importante vuoi salire fare un discorso qualcosa no si siede ok Dave che dice dov'è Gnagno Gnagno per chi non lo sapesse è Massimil Gnagno anche il nostro fratello almeno leggi leggende di come è il nostro fratello poi comunque sta dormendo ci lanci qualche biscotto su una casa facciamo colletto biscotti guarda guarda che gazzella cosa mangia la gazzella? l'erba mancheranno 200 metri e Lori scrive dove state andando a casa non so te però io di solito a mezzanotte vado a casa intanto è partito il World Championship con Don Pedro Papi che prova lo scatto non molla usa in volta la vicina ma Don Pedro Papi non molla Don Pedro Papi the winner is Don Pedro Papi dai arrivati non avete mollato un cazzo siete il numero uno stupendo me che belli anche cosa più bella cosa camprestre camprestre vi vogliamo bene fase 2 vi vogliamo più bene fase 2 è completata grazie passiamo alla fase 3 passiamo alle cose formali dai ciao ah ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti